Oggi la mixology sta vivendo un nuovo rinascimento e questo grazie ai vecchi maestri che hanno aperto nuove strade oggi percorsi dei giovani che possono sperimentare tecniche innovative. Con 130 anni di storia il Grand Hotel Fasano è uno degli hotel più eleganti ed importanti dell'arrivo occidentale del lago di Garda. Il Grand Hotel Fasano è da sempre frequentato dal Jet Set internazionale e d'oggi una struttura moderna inserita in un magnifico contesto ambientale. Da alcuni anni i nostri bar sono aperti oltre che agli ospiti dell'hotel anche alla clientela esterna. Questo ci ha permesso di far conoscere ad un pubblico vasto ed eterogeneo la nostra filosofia di mixology. Il proseguo sfumante più richiesto dalla clientela nazionale è internazionale. La sua versatilità lo rende anche protagonista ideale di molti cocktail. Una delle preparazioni che sta avendo più successo è lo Zanardelli 190. Un cocktail ideato da me è che è una rivisitazione del classico cocktail champagne. Si tratta di un miscelato piuttosto complesso per il quale ho usato prodotti italiani, dal brandy al bitter e naturalmente al prosecco con un tocco finale di grande originalità. L'ultima tendenza nell'ambito della ristorazione è il food pairing, ovvero l'abbinamento di piatti con il cocktail. Con Matteo Felter, executive chef del Grand Hotel Fasano, abbiamo ideato un percorso di abbinamenti che la clientela ha dimostrato di gradire molto. Ad esempio accompagniamo alle seppie con botarga su un letto di burrata, un cocktail sempre a base di prosecco con gin, passion fruit, succo d'uva aromatizzato. Io penso che la mission del mixologist oggi sia quella di educare il gusto della clientela e di guidarla a bere in modo elegante e raffinato ma soprattutto responsabile.